non ci sono le condizioni tecniche per poter riaprire totalmente la galleria di prepo a dirlo è l'anas ed è una decisione che però fa tremare i polsi sì perché i prossimi due weekend perugia sarà presa d'assalto come ogni anno oramai dai golosi del cibo degli dei c'è euro chocolate e il raccordo perugia bettolle è già un inferno per conto suo da quando sono cominciati i lavori possiamo immaginare cosa sarà con l'arrivo dei cioccolatomani pullman auto moto insomma per la kermess più gustosa che ci sia perugia arrivano decine di migliaia di persone all'anas di questo sono consapevoli ma affermano che i lavori sono ad uno stadio tale peraltro in anticipo sui tempi previsti da impedire la rimozione del cantiere operazione che prevederebbe alcuni giorni di lavoro ma anche se si facesse il tunnel di prepo non sarebbe a norma per poter essere transitato abbiamo spiegato dicono all'anas durante il lavoro tecnico in prefettura che purtroppo in questa fase non sussistevano le condizioni per la riapertura della galleria la parte demolitiva puntualizzano è quasi terminata e non è assolutamente possibile all'obiezione prevedibile del perché per il derby invece questo è accaduto la risposta è stata chiara erano conclusi i lavori della prima carreggiata e in accordo con l'ufficio territoriale del governo abbiamo deciso di cominciare i lavori della seconda con lo slittamento di qualche giorno la questione però non è solo seria ma serissima non c'è solo euro chocolate ma anche partiti di calcio e baracconi a pian di massiano la città ma di più l'umbria intera saranno paralizzate in quei giorni l'unica direttrice che porta verso e da firenze sarà totalmente bloccata e che ne sarà dei cosiddetti percorsi alternativi vi immaginate che accadrà per esempio dentro ponte san giovanni il problema poi non è solo di turisti tifosi e golosi ma anche soprattutto dei residenti chi abita in città o ai ponti o a ponte san giovanni in particolare sarà praticamente prigioniero in casa ma c'è di più quando si blocca il raccordo perugia bettolle dopo poco va in tilta anche la e45 e la statale 75 centrale ombra possibile che non si possa prevenire quest'inferno